Musica Potenta parola ragazzi, qua Vax, l'ho giomigato, oggi sono da sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi non è un video di presentazione come vi avevo annunciato ma bensì sarà un pink pile di un altro giocatore, di quale giocatore lo sto parlando? Sto parlando di il magico Pierre-Emerick Aubameyang pagato la bellezza di 1.500.000 crediti che statisticamente parlando mi sembra una vesca e non vedo l'ora di provarlo Comunque prima di iniziare volevo ricordare, passate la fila che non siete interessati a un parco di FIFA e volevo ricordare di andare in descrizione, schiacciare sui link di Twitch perché infatti ultimamente, non dico quasi ogni sera magari ma una sera ogni tre giorni magari anche con qualcuno tipo Minchia Guardi, Marco Sinci e altre persone varie sto iniziando a fare degli streaming quindi se volete seguirmi mi raccomando andate in descrizione ecco, o li faccio solitamente sul tardi, in mezzanotte anche quindi vabbè appunto così per farvi giusto sapere un certo tipo di orario Comunque detto questo non mi sembra dell'altro cosa da dire vi ringrazio come sempre per tutti i supporti che mi stai dando vi ricordo di lasciare già un bel vi piace, arriviamo a 4.000 e poi ragazzi torneranno a breve tutte quelle serie che diciamo che hanno fatto appassionare su FIFA 14, quali l'Axels vs Food oppure anche il Poticitella vi chiedo solo una cosa, state calmi che torneranno a più presto Comunque detto questo non ho più niente da dire come vedete Pink Palemar è una matcha di Aubameyang e Xbox One twittiamo su Facebook, abbiamo twittato e adesso aspettiamo gli inviti è una cosa abbastanza amica perché sono arrivati solo due inviti quindi adesso aspetta ancora un po' se no andrò ad accettare uno di quei due e ragazzi accettiamo uno di questi due quindi accettiamo l'ultimo che si chiama appunto Flydrax non ho idea del perché così poca gente oggi voleva sfidare in questo Pink Palemar comunque Flydrax sarà il nostro sfidante ah no, arrivano adesso e andiamo ad invitarlo oh mio dio, oh mio dio, non ci credo oh, ed eccolo qua 79, 84, 81 andiamo a togliere questa schermata che ci dà fastidio che bella la sua maglietta andiamoli a vedere la squadra oh, qua controlliamo di stare registrando tutto no, 5 in difesa no, i parvo portelli no, te pensi oggi si presuppone una partita abbastanza difficile dolore oh, ma che dolore bravissimo via via veloce ahhh madonna santissima e con 1 a 0 dobbiamo metterci tutta la PC mod ragazzi dobbiamo metterci tutta la PC mod contro i barbo sinceramente non pensavo di pararla ero sicuro dell'esito di questa azione Zlatan per il Pierre che corre sul prato il Pierre che corre rientra boh, no, no James la mette dai a Wameyang no, che parata ha fatto che parata ha fatto dai Zlatanillo Zlatanillo ci arriva ci arriva ci arriva Ibra mamma mia i primidi i primidi bella 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 no ma è Gesù il suo portiere dai, avanza Ibra Ibra ma ancora parata si no ma dai oh che palle andavo no ma lui ma sei pazzo ma stiamo no no dai no dai ma porca miseria Gonda oddio ma è il portiere e andiamo pensavo se il difensore 2 a 1 tagli ma dai Cristo erano due giocatori boia boia diamo sì no ma dai no vabbè oh il suo portiere manco Gesù Spider-Man è Spider-Man ti vai a fare davvero se vinci ti do ma mi hai più un migliore e mezzo e ragazzi ha accettato no 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 si grazie